Ciao a tutti, oggi proverò a parlare un po' di contact tracing, anche detto tracciamento dei contatti, che è l'idea alla base dell'applicazione che il governo ha proposto per aiutare durante la fase 2 con la riduzione dei contagi dovuti al nuovo virus. In questi giorni se ne sono sentite diverse di idee sull'impatto che una tale applicazione può avere sulla privacy dei cittadini. Alcune impostazioni partono dall'idea che siccome di solito noi già regaliamo tutti i nostri dati a Facebook, Google, Apple, e così via le grandi corporazioni, allora è stupido preoccuparsi delle implicazioni sulla privacy che è un'applicazione che viene concepita per ridurre un problema che sta in questo momento creando dei problemi all'umanità come poche cose si erano viste se non le grandi guerre mondiali. Altri invece dicono, no, attenzione, questa situazione di criticità dovuta al virus sta mettendo comunque i governi nelle condizioni di chiedere cose che normalmente non avrebbero avrebbero avuto la libertà di chiedere perché la società civile avrebbe reagito e quindi manteniamo alta la guardia affinché non si creino delle situazioni paradossali. Allora, chi è che ha ragione tra queste due diverse visioni? Sostanzialmente c'è una verità sia da una parte che dall'altra, ma i dettagli sono, diciamo, il demone della discussione perché un'applicazione per il tracing fatta in un determinato modo ha un'implicazione per la privacy quasi nulla. Fatta in un altro determinato modo può essere inaccettabile, sostanzialmente. Molto peggio di quello che accade attualmente con la comunicazione dei nostri dati a Google e Facebook. Perché? Tecnicamente noi lo vedremo assieme, ma concettualmente il problema è, tanto per iniziare, che una grande corporazione se viola la privacy degli utenti in maniera molto grave ha delle conseguenze in termini di perdita di denaro, di moltissimo denaro, perché uno scandalo sulla privacy, come è successo con Facebook, ha uno strascico, sia un momento acuto che uno strascico, importantissimi. Per cui comunque le corporazioni hanno un interesse economico a utilizzare i nostri dati solo per i fini a loro utili. E spesso questi fini a loro utili sono in effetti molto in linea con un grande livello di privacy. Per esempio, se Google vuole sapere quello che compro, quali sono i miei interessi per scriverli all'interno di un database ben custodito e poi mostrare solo a me delle pubblicità più targettizzate, allora sì, cioè è una cosa che chiaramente può darmi fastidio, perché comunque vedo che il web diventa a forma di come sono io, dal mio punto di vista, per cercare di massimizzare la mia declinazione di compratore, di cliente, però diciamo, siccome poi suppluisco di un ventaglio di servizi gratuiti, vendo i miei dati sapendo che sono ben custoditi, ma gli stessi dati nelle mani di un governo creano una situazione molto più spiacevole, a mio avviso. Poi questo è un pensiero di tipo politico, non tecnologico. Il motivo è che il governo, tanto per iniziare, non ha le stesse... qualora violasse la privacy degli utenti non ha lo stesso effetto collaterale che hanno le grandi corporazioni, perché il governo è quello e te lo devi tenere, al di là, diciamo, dei rappresentanti eletti in quel momento, però ci sono dei meccanismi che hanno a che fare con i servizi e così via che vanno ben oltre, diciamo, la contingenza politica, quindi regalare tutti questi dati al governo può essere problematico, perché potrebbero avere sia grandi impulsi interni ad utilizzarli in maniera sgradevole che anche mancare della deterrenza che invece le grandi corporazioni hanno. In seconda analisi, il motivo vero per cui sono io personalmente preoccupato è che i dati che spediremmo, qualora l'applicazione fosse scritta nella maniera sbagliata, utilizzando i protocolli sbagliati al governo, sono di una sensibilità dal punto di vista della privacy che non ha neanche paragoni con i dati che attualmente noi inviamo a Facebook e Google. E ora proveremo a vedere perché. In questa sessione io vi spiegherò il contact tracing, che cos'è di fatto questo tracciamento di contatti, come potrebbe funzionare in due maniere sostanzialmente antitetiche, una in una maniera centralizzata molto deleteria per la privacy dei cittadini e in un'altra maniera non centralizzata, esaminando nello specifico la proposta che hanno fatto di API, che hanno fatto Google ed Apple in maniera congiunta. Questi due modi sono due modi che bisogna spiegare tecnicamente, ma nonostante l'informatica sia normalmente offuscata da una patina di complessità che la gente che non è del settore vede in qualunque degli argomenti che fanno parte di questa disciplina. In realtà, se le cose sono spiegate in maniera semplice, sono comprensibili per tutti anche nei dettagli. Così come l'informatica ha dei concetti complessi, in realtà ogni lavoro, ogni scienza, ma anche tutte le discipline umanistiche hanno delle complessità uguali che a volte sembrano più approcciabili solo perché abbiamo nella quotidianità più a che fare con altre cose. Quindi io spero che alla fine di questi 20, 30, 40 minuti, non lo so quanto tempo mi impiegherà questo video, anche le persone che non hanno nessuna comprensione di questo tipo di concetti finiranno per capire esattamente qual è il punto della questione. Noi utilizzeremo oggi una lavagna virtuale che è molto utile per spiegare questo tipo di cose. Allora, che cos'è il tracciamento dei contatti? L'idea è che se qua c'è una persona A e qua c'è una persona B che vengono in contatto, ovvero che entrano a distanza con meno di X metri tra una e l'altra, io voglio ricordare all'interno di questo sistema che A e B sono entrati potenzialmente in contatto. Così se A domani è positiva al virus c'è una possibilità di informare B che potenzialmente, essendo stato in contatto con A, potrebbe essere anche lei o anche lui positivo al virus. Per fare questa cosa ci sono molti modi ma sostanzialmente, se vogliamo andare al nocciolo della questione, il punto è questo, che A probabilmente ha in tasca un telefono cellulare e B probabilmente è in tasca un telefono cellulare. Allora, se io questi telefoni cellulari li programmo in modo che ogni tot secondi inviano un messaggio, sono qui, a tutti, quindi è un messaggio di broadcast, non è un messaggio che è spedito da questo telefono a questo telefono, è un messaggio che questo telefono spedisce a tutti. Poi tutti i telefoni che sono all'interno del raggio, questo, questo, questo altro telefono, questo altro telefono, capteranno questa informazione. Questo messaggio sono qui, che cos'è in realtà che contiene? Contiene un identificativo di questo telefonino che è un Ivo, quindi un numero che solo questo telefono ha e che se l'app viene eseguita anche in questo telefono, quindi avrà un numero diverso e così via. Quindi ogni telefono si farà portatore di un identificativo diverso. Quindi lui dirà, per esempio, sono qui e sono 1, 2 e 3. Il telefono della persona B dirà sono qui, ma dirà io sono il dispositivo 4, 5 e 6. Quindi noi abbiamo questi telefoni che dicono sono qui, sono qui, sono qui. Quindi questo dice a tutti io sono 1, 2 e 3, questo dice a tutti io sono 4, 5 e 6. Se questi telefoni sono abbastanza vicini tra di loro, che questo possa sentire quello che dice questo e viceversa, allora quello che succede è che questo, chiamiamolo, queste informazioni, chiamiamole pacchetti, perché sono delle informazioni che vengono lanciate da un telefono agli altri partecipanti che contengono un massimo di tot byte, di tot caratteri, e sono dei pacchetti di dati, quindi come se fosse un pacchetto postale, come se fosse una letterina, ecco. Quindi il telefono 1, 2 e 3 sente che c'è un altro dispositivo che dice, ehi, sono io, 4, 5 e 6, e si fa una lista interna. dice, allora, il 12 giugno alle 13 e 59 e 27 secondi sono venuto a contatto con il dispositivo 4, 5 e 6. Poi la persona che ha questo dispositivo va in giro, se ne va da un'altra parte e incontra un'altra persona che ha in tasca un altro dispositivo, il dispositivo 9, 9, 9. Di nuovo, questo dispositivo 9, 9, 9 grida, sono io, sono io, sono io. Questo dispositivo 1, 2 e 3 lo riceve e segna anche che è entrato in contatto col dispositivo 9, 9, 9 alle 14 e 25 tot. Quindi alla fine ogni dispositivo avrà una lista di altri dispositivi con cui è venuto in contatto. Tuttavia, il problema è il modo in cui tali informazioni sono registrate e il modo in cui poi io, se questo utente è infetto da Covid, posso andare a cercare tutti i dispositivi con cui è stato a contatto e posso andare a di informare tutti i possessori di questi dispositivi del fatto che probabilmente dovrebbero farsi controllare perché avrebbero potuto controllare la malattia. Allora, che modi ci sono per implementare una cosa del genere? Un modo è questo, che i diversi dispositivi quando hanno una lista di identificativi con cui sono venuti a contatto e sapendo di avere essi stessi un identificativo ognuno univoco per cui questo è 1, 2, 3 questo è 3, 4, 5 questo è 9, 9, 9 comunicano tutte queste informazioni ad un server centrale che registra tutto ecco, questa è la situazione in assoluto peggiore perché significa che c'è un soggetto che potrebbe essere lo Stato o una società che gestisce il sistema per conto dello Stato che ha tutte queste informazioni e con queste informazioni che cos'è che puoi fare? Puoi fare che ad un certo punto fra un mese vuoi dire voglio sapere il soggetto 1, 2, 3 con chi è stato negli ultimi due mesi e ti esce un record in cui dice è stato con 3, 4, 5 per un attimo probabilmente si sono visti solo di passaggio ma con 9, 9, 9 c'è stato per 15 minuti in prossimità veramente stretta di magari due metri per cui molto probabilmente parlavano e allora succede che se 1, 2, 3 viene arrestato dalla polizia perché c'ha per esempio delle idee politiche in uno Stato meno liberale dell'Italia per fare un esempio diciamo non proprio riconducibile necessariamente al nostro paese poi allora vado a guardare io con chi è stato poi li prendo li interrogo tutti li sbatto in galera e si capisce che questa situazione diventa abbastanza poco gestibile dal punto di vista della libertà fondamentale del cittadino perché il problema qual è? che le informazioni che a questo punto si possono collezionare sono veramente molto dettagliate nel senso che queste applicazioni cos'è che usano per spedire questi pacchetti di dati? usano una tecnologia che si chiama bluetooth sono una delle radiofrequenze che i telefoni utilizzano perché il telefono parla con la rete gsm per collegarsi all'operatore telefonico e consentire di telefonare gli sms e così via con lte altre frequenze per navigare su internet eccetera eccetera c'è anche altre radiofrequenze che permettono di collegarsi al wifi e poi usa pure il bluetooth che di solito viene utilizzato per esempio per collegarsi a dei piccoli device al nostro smartwatch o alle nostre cuffiette per ascoltare la musica e così via ecco il bluetooth è quello che usa meno energia e per diversi motivi è più riconfigurabile di questi e permette più semplicemente di implementare questo tipo di applicazioni essendo che si utilizzano le radiofrequenze le radiofrequenze hanno una caratteristica se tu sei vicino a chi la emette senti questo segnale in maniera molto forte più ti allontani e più il segnale diventa debole sempre di più questa il segnale viene perso in maniera proporzionale al quadrato della distanza quindi significa che man mano che ti allontani la quantità di segnale che ti arriva è molto più bassa non è lineare il modo in cui si abbassa quindi se questa è la potenza del segnale power e questa è la distanza a cui sono i due device non c'è una linearità quindi più mi allontano e più questo segnale arriva piano ma il segnale si abbassa in maniera molto repentina man mano che la distanza aumenta allora visto che è così un sistema del genere permette di solito quando A spedisce un pacchetto di dati AB di sapere anche con quale forza B riceve questo segnale quindi con quanti decibel questo segnale è stato ricevuto sapere la forza con cui il pacchetto è stato ricevuto permette di stimare la distanza inoltre siccome questi pacchetti vengono spediti continuamente a distanza di pochi secondi uno dall'altro il device l'applicazione in uno chi per lei può anche contare quante volte ha ricevuto un pacchetto per ogni minuto allora per esempio nel minuto delle 12 e 17 ha ricevuto il pacchetto dal B una volta poi il 18 già non ha ricevuto più e il 19 non ha ricevuto più evidentemente questi qua si sono ingrociati per un attimo al supermercato magari la potenza del segnale tra l'altro era anche molto bassa quindi segnale basso invece se A e B sono stati fisicamente nella stessa stanza perché dovevano dirsi qualcosa e ci sono stati per 15 minuti l'applicazione vedrà che alle 12 e 17 già in questo minuto per esempio sono arrivati 7 pacchetti e 18 8 pacchetti e 19 5 pacchetti quindi di continuo c'è stata c'è stata un'esposizione molto alta tra i due device per diversi minuti e vedrà pure che la potenza del del segnale con cui i pacchetti sono stati ricevuti era molto alta e da qui si risale praticamente una quantità di dettagli enorme su chi incontra chi e se l'incontro è stato saltuario o se è durato un quarto d'ora o 60 minuti o 45 minuti quanti a che prossimità erano i due utenti si capisce che le implicazioni per la privacy sono veramente molto pesanti com'è possibile fare un sistema non centralizzato in cui i device possono avvisarsi l'uno con l'altro ma senza spedire ad un server centrale le informazioni di chi esattamente è A di chi è B di quali device è stato in contatto A di quali device è stato in contatto B per farlo si utilizza una disciplina chiamata la crittografia che cos'è la crittografia la crittografia è la scienza è una branca della matematica che studia i modi per codificare i messaggi in modo che un messaggio non sia più intercettabile da soggetti che non dovrebbero leggerlo ma sia soltanto leggibile dai soggetti che hanno effettivamente che sono effettivamente i destinatari di quel messaggio là per capirci se io voglio spedire io sono Alice e questo è Bob allora io voglio spedire un messaggio che è una lettera a Bob se il postino che ha in mano questa lettera legge il messaggio viola la mia privacy ma se io applico una trasformazione a questo messaggio tale che il messaggio in chiaro lo trasformo in una sequenza di caratteri che non viene capita allora io posso fare che prendo il messaggio che volevo spedire a Bob lo trasformo cifrandolo quindi faccio questa trasformazione lo cifro per cui non è più intelligibile se non avendo una chiave che noi chiamiamo K una chiave di cifratura che io avevo precedentemente scambiato con Bob il postino non può più capire nulla di quello che c'è scritto nel messaggio perché è assolutamente incomprensibile dal suo punto di vista non avendo il postino la chiave di cifratura però quando Bob viene in possesso del messaggio utilizzando la chiave applica la trasformazione contraria quindi da chiaro il messaggio lo ha fatto diventare cifrato Alice invece Bob usando la sua chiave da cifrato lo fa tornare in chiaro e può di nuovo leggere il messaggio per cui Alice e Bob utilizzando la crittografia hanno evitato di sacrificare la loro privacy nel caso il postino o chi per lui avesse intercettato il messaggio la crittografia questo è un esempio di crittografia simmetrica ci sono diversi tipi di crittografia la cosa che a noi interessa capire in questo caso è che cos'è una trasformata matematica che fa parte dei concetti della crittografia che si chiama funzione di esching ad una via noi per semplicità la chiameremo funzione ad una via che cos'è una funzione ad una via allora immaginate che di avere una frase per esempio ciao e passarla da una funzione matematica che è questa cosa qui che non sappiamo bene ancora come funziona è ottenere un numero fisso per esempio un numero da 1 a 100 in realtà nella crittografia si usano dei numeri molto lunghi però facciamo un esempio di 1 a 100 allora cosa posso fare magari sommo tutte le lettere che compongono ciao quindi c io uguale 3 io uguale quello che è io uguale 1 e così via le sommo tutte in base alla posizione che hanno nell'alfabeto e poi magari se il risultato è maggiore di 100 faccio il modulo quindi prendo il resto della divisione tra il numero che mi esce a 100 quindi lo faccio tornare di nuovo all'interno di un intervallo non so per esempio questo sarà 25 non ho idea la cosa interessante di questa trasformazione è che perché è ad una via perché da 25 io non posso ricostruire che si è trattato della parola ciao perché ci sono moltissime altre parole che avranno come risultato della stessa trasformazione quindi sommando queste lettere sempre 25 questo è un caso banale di funzione è una via che non è assolutamente sicuro dal punto di vista crittografico sommare le lettere ma ci sono dei modi in cui io questa scritta ciao la vado prima a sistemare in una serie di caselle poi faccio delle trasformazioni non lineari una dopo l'altra dopo l'altra tale che completamente diventa impossibile ritornare indietro o avere anche delle informazioni anche lontanissime su quale possa essere il messaggio iniziale quindi io prendo un messaggio qualunque lo passo da una funzione ad una via e ottengo questo numero che è veramente slegato dal messaggio originale c'ha solo una caratteristica che il messaggio originale quando viene fatto passare dalla funzione ad una via otterrà sempre lo stesso numero finale non è che ciao oggi mi produce 25 domani mi produce 27 allora come posso utilizzare io una funzione ad una via per migliorare la situazione della privacy allora questo è il protocollo proposto da google e da apple quando io installo l'applicazione per il tracing questo mio telefono crea una chiave molto lunga 1 2 3 7 una chiave lunghissima questa chiave la registra all'interno del dispositivo e non la darà mai a nessuno questa chiave non uscirà mai dal dispositivo ogni dispositivo che installa l'applicazione genererà un'altra chiave casuale che nessuno mai saprà è registrata dentro il dispositivo e non esce mai ogni giorno da questa chiave io ne creo un'altra che è una chiave che chiamo chiave della giornata di stopper day in inglese quindi kd0 è per la giornata numero 0 kd1 è la giornata numero 1 come faccio a creare una chiave dalla prima chiave che ho prodotto utilizzo questa funzione ad una via perché per esempio se la funzione ad una via che chiamiamo h di ciao mi faceva uscire a me un numero se io a ciao ci aggiungo ciao poi ci metto non lo so un underscore e poi ci metto la data di una data ci metto la data di oggi 20 aprile apr mi esce un diverso numero se io poi ci metto 21 aprile il giorno dopo dalla prima chiave ne ottengo ancora un'altra quindi praticamente con una funzione ad una via che noi abbiamo chiamato ora h per semplificare dalla chiave originale che io non do a nessuno posso gestire posso generare un'altra chiave che è giornaliera la genero per oggi per domani per dopodomani e così via quindi finora abbiamo derivato solo delle chiavi che io uso per ogni giorno che ci faccio con queste chiavi allora quindi ogni device c'ha questa chiave fissa poi c'ha una chiave giornaliera per tutti i giorni da 0 fino ad n con questa chiave poi io per ogni 10 minuti di tempo per ogni quarto d'ora di tempo o quello che voglio genero una nuova chiave che è proprio l'identificativo che il device annuncerà tramite i pacchetti quindi praticamente io di nuovo prendo la mia funzione ad una via oggi è il giorno 3 allora io prendo la chiave del giorno 3 che avevo generato partendo dalla chiave iniziale ci sommo l'orario del quarto d'ora attuale quindi io conto il primo quarto d'ora lo chiamo 0 il secondo quarto della giornata lo chiamo 1 e così via per tutti i quarti d'ora che ci sono nella giornata mettiamo che ora sono nel settantunesimo quarto d'ora e genero un'altra chiave che è l'id attuale quindi il mio device dirà ehi sono qui ehi sono qui con un id diverso per ogni quarto d'ora l'altro device lo ascolterà e memorizzerà questo questo identificativo con cui è stato in contatto allora già qua la cosa interessante perché cambio ogni quarto d'ora l'identificativo che spedisco a tutti gli altri device così se io sono vicino ad una persona e per un attimo quella persona vede per esempio con uno strumento che permette di osservare tutti gli identificativi che in questo momento tutte le app di immuno stanno ok keeper perché questa non è immuno quella che sto descrivendo io che le app di tracciamento stanno in quel momento pubblicizzando a tutti io posso vedere per esempio che Gino ha come identificativo 999 a quel punto se so che l'identificativo è fisso io posso installare per esempio nella mia macchina parcheggiata fuori un device che cerca sempre per l'identificativo 999 e ogni volta che Gino passa da vicino la mia macchina mi dice ah guarda ho visto Gino alle 3 un quarto del pomeriggio del 21 aprile poi il 22 aprile l'ho visto di nuovo alle 6 in punto e così via se invece se invece l'indificativo di Gino cambia ogni 10 minuti a quel punto io ogni 10 minuti perderò la possibilità di tracciarlo anche se so qual era io so magari qual era il suo identificativo in questo quarto d'ora il prossimo quarto d'ora cambia perché viene sempre generata grazie ad una funzione una via un nuovo identificativo e quindi non so più assolutamente quali sarei il suo nome identificativo io non lo posso tracciare più come faccio nonostante questa trasformata poi e senza spedire delle informazioni al server che mi compromettono avvisare gli altri e allora lo vediamo molto velocemente quindi riepiloghiamo il device durante l'installazione crea questa chiave l'applicazione durante l'installazione sul device crea questa chiave k dalla chiave k noi avremo delle chiavi giornaliere che cambiano ogni giorno e poi avremo delle chiavi id che cambiano ogni quarto d'ora che sono derivate ogni volta sommando alla chiave del giorno l'identificativo del quarto d'ora quarto d'ora lo chiamiamo qd corrente ed è questo che noi veramente spediamo a tutti gli altri dispositivi questo kid che cambia ogni 10 minuti quando un device quindi allora finora che cosa è uscito dal nostro device solo questo perché questo e questo fino ad ora sono segreti e rimangono dentro il device se l'utente non è mai infetto se non sarà mai infetto questo kid sarà l'unica cosa che sarà pubblicata ed è un'informazione effimera perché ogni 10 minuti cambia l'utente non ha rivelato la sua vera identità non sarà tracciabile in futuro nulla se invece quest'utente si accorge di essere positivo al covid spedisce al server di google apple o di chi gestisce l'applicazione in questione solamente le chiavi del giorno degli ultimi giorni da quando lui sa di essere positivo e in più tutto il periodo precedente che può essere quello dell'incubazione del virus a quel punto il server centrale conosce per esempio dell'utente salvo conosce kd di 5 kd di 6 kd di 7 fino a kd di 25 quindi conosce delle chiavi giornaliere con queste chiavi giornaliere che cosa può fare queste chiavi giornaliere effettivamente permettono al permettono diciamo al a chi ne è in possesso di generare tutte le le chiavi id che l'utente ha generato fino a quel momento quindi per questi giorni se questo server centrale controllato da qualcuno che vuole sapere se l'utente era stato in quel momento 5 giorni fa in un supermercato e aveva un macchinario dentro il supermercato con un'antenna che registrava tutti gli id che sentiva da parte delle applicazioni lo potrà fare questo è inevitabile purtroppo anche se questo è un protocollo molto sicuro questo si può fare ma questa è una violazione della privacy molto molto relativa perché significa solo diciamo essere in grado da parte dell'autorità che centralizza questi pochi dati che devono essere centralizzati necessariamente sapere solo a posteriori qualora l'utente fosse positivo e qualora avesse installato dei dispositivi per registrare tutti gli id in un determinato posto se l'utente è passato di lì o meno a questo punto questi il server centrale compila una lista di tutti di tutte le chiavi dei giorni di tutti gli utenti positivi quindi c'è Salvo che ha spedito KD5 KD6 tutte queste chiavi qua Patrizia che ha spedito che è pure lei positiva quindi questa è una lista di tutti i positivi che hanno dovuto inviare dal proprio dispositivo una lista di chiavi al server centrale il server centrale cosa farà distribuirà questa lista di chiavi a tutti i dispositivi che partecipano all'applicazione quindi ogni dispositivo che partecipa all'applicazione riceverà queste chiavi queste chiavi sono grandi 16 caratteri sono piccole apposta per essere gestibili perché significa avere un sacco di trasferimento di dati quindi vengono impacchettate e pam 16 caratteri a botta vengono spediti a tutti i device questi singoli device cosa non possono fare anche se non hanno spedito mai le loro informazioni ognuno ha il suo KD che non ha mai spedito e ognuno ha i suoi ID che ha spedito ogni 10 minuti a tutti ma che non valgono niente dal punto di vista della privacy non creano alcun problema riceverà quindi questa questa listona una volta che ha ricevuto questa lista fa una cosa utilizzando la funzione ad una via computa per ognuna di queste chiavi tutti i K KID di tutti i quarti d'ora quindi fa quindi la nostra funziona ad una via l'abbiamo chiamata H vi ricordate quindi no lui fa HD parte con la prima chiave del giorno che ha ricevuto è la concatena primo al quarto d'ora numero 1 poi al quarto d'ora numero 2 poi al quarto d'ora numero 3 quindi genererà praticamente per questa giornata qui tutti gli ID di broadcast che questo dispositivo infetto ha potuto sparare in quella giornata e li va a paragonare con la lista che ha lui di quelli con cui è entrato in contatto per quel giorno quindi se questo è il giorno numero 5 lui dice ma io con chi sono venuto a contatto il numero 5 con questi identificativi ma può essere che uno di questi identificativi era di un paziente che ora io so che è infetto utilizzando questi KD effettivamente lui può internamente il device senza chiedere nulla al server generare tutti i KD possibili di quell'utente e vedere se ce n'è uno con cui lui è entrato in contatto se non è entrato in contatto con nessuno di questi identificativi sa che non è entrato in contatto con l'utente come vedete in questo schema c'è la possibilità da parte degli infetti di dire ai non infetti che possono essere effettivamente entrati in contatto e quindi che ci possa essere stato un potenziale contagio senza che diciamo informazioni importanti per la privacy siano state veicolate al server se non da parte dei positivi e solo limitatamente al fatto ai giorni in cui delle chiavi dei giorni in cui ci possa essere stata attiva un'infezione contagiabile questo significa che comunque il server centrale non sarà mai comunque anche nel caso di soggetti infetti non verrà mai a conoscenza della chiave principale per cui i prossimi identificativi dei giorni e quindi i prossimi identificativi di che l'applicazione sparerà in broadcast tramite i suoi pacchetti non potranno mai essere tracciati neanche dal server centrale neanche per i pazienti infetti che hanno solo spedito diciamo le chiavi dei giorni specifici quindi il grado di privacy è molto alto qual è la cosa che probabilmente non piace ai governi di sta roba qua anche ammettendo che i governi fossero completamente diciamo trasparenti e ben intenzionati ok il governo dice c'è un problema se questa computazione avviene nel device dell'utente l'utente che riceve questa comunicazione qua da parte di questo soggetto che è stato trovato infetto può semplicemente chiudere l'applicazione cangellarla mettersela in tasca di nuovo e fregarsene non ci sarà mai una comunicazione da parte della di questo device alla autorità sanitaria centrale o meglio in teoria l'applicazione effettivamente dopo che vede che il soggetto è potenzialmente entrato in contatto di persone infette può immediatamente dopo l'applicazione spedire una notifica senza alcun dato relativo alle chiavi ma volendosi l'applicazione può dire magari chiedendo il permesso all'utente posso spedire questa informazione online o anche senza il permesso dell'utente ma in questo caso l'autorità sanitaria saprà solo che l'utente è venuto in contatto con un potenziale infetto ma non saprà effettivamente qual è l'identità di questi pazienti infetti quindi praticamente di essere venuta a contatto A con B o A con C per quanto tempo perché questa è una violazione della privacy gravissima in questo modo sostanzialmente l'applicazione di questo protocollo decentralizzato risolve il problema senza veicolare mai allo Stato o al gestore da parte dello Stato delle informazioni che sono troppo riservate qual è il problema di questa applicazione di questo modello qui il problema sta nel fatto che ogni volta che chiunque risulti risulta positivo e spedisce le sue chiavi al server il server centrale deve spedire le chiavi dei giorni che possono essere per esempio anche 30 chiavi per utente per esempio per coprire il periodo di un mese 30 chiavi per utente a 16 byte ognuno per non lo so magari devono essere trasferite ai device a tutti i device che partecipano a questo protocollo ci sono delle situazioni che possono attenuare questo trasferimento dati che per esempio sono le seguenti l'applicazione potrebbe anche chiedere la posizione dell'utente tramite il gps ogni tot e registrare almeno le macro aree in cui è stato cioè se questa è l'Italia bella e questa è la Sicilia ottimo disegno magari senza alcuna violazione della privacy per cui non lo so con quadrati di 100 km per lato 100 km quadrati ogni quadrato di questo avrà un suo identificativo allora l'applicazione dice guarda spediscimi solo le chiavi degli infetti che sono stati in quei giorni solo all'interno di queste determinate aree dove sono stato pure io così invece di tirarmi giù le chiavi di tutto il globo di tutti gli infetti di tutto il mondo e spedirle ad ogni device è anche vero però che ogni giorno noi trasferiremo al device magari solo le chiavi di una giornata di tutti gli infetti trovati in una giornata per cui la situazione diventa gestibile se pensate anche all'utilizzo all'interno di un solo territorio nazionale visto che comunque per ora la gente non viaggia e così via comunque in Italia non lo so mettiamo che fanno poi dei test veramente molto ma molto a tappeto sulla popolazione anche se ci sono comunque 100.000 positivi al giorno comunque 100.000 che ognuno ha 30 chiavi per 16 byte rimangono comunque delle una quantità di informazioni rimane comunque trasferibile ad ogni device senza problemi enormi sono tanti dati però non abbastanza dati da creare da creare dei veri problemi per cui insomma il protocollo espresso formulato da Apple e Google ha una serie di vantaggi chiave è chiarissimo è ben specificato ha una privacy per l'utente enorme e non è una porcata centralizzata che ha dei problemi potenziali davvero gravi vi volevo mettere in guardia da quello che sicuramente accadrà sicuramente qualcuno dirà ok è vero noi stiamo mettendo su un sistema centralizzato ah ma non vi preoccupate perché è tutto assolutamente de-anonimizzato che arriva qui e noi certo registriamo le informazioni per poi fare il match e spedire ognuno con chi è stato in contatto ma non vi preoccupate perché noi comunque cifriamo tutte le informazioni degli utenti e così via ecco questa cosa qui non va bene perché sì la cifratura può permettere di non avere i dati direttamente esposti all'interno del server a chiunque però fatto sta è che stiamo dando una fiducia enorme a chi gestisce il server a chi sta scrivendo il software la fiducia non deve essere riposta nelle mani di chi ha centralizzato l'applicazione perché dobbiamo immaginare che gestirà tutto per bene la fiducia deve essere nel protocollo quello che ho descritto io poco fa è un protocollo criptografico questo protocollo ha delle sicurezze implicite ha delle sicurezze che derivano dal fatto che alcuni dati non vengono mai spostati dal device al server centrale questa è una sicurezza accettabile la sicurezza non ti preoccupare che noi cifriamo tutto in accordo alle leggi della comunità europea non è una sicurezza sufficiente per cui se l'applicazione che il governo sceglierà o che ha già scelto sei appunto immuno utilizza un protocollo decentralizzato come quello che ho descritto allora i cittadini non dovrebbero avere alcun problema ad installarlo non devono temere per la propria privacy se invece l'applicazione immuno finirà per utilizzare un protocollo centralizzato io credo che il livello di violazione della privacy potrebbe essere inaccettabile ed è comprensibile da parte dei cittadini la voglia di non installarlo anche perché c'è da dire una cosa se ho un'infezione batterica e mi prendo l'antibiotico verosimilmente nel 99% dei casi questa infezione batterica a me ne passa ma la capacità che avrà un'applicazione del genere opt in quindi non obbligatoria ma chi la vuole installare la installa di effettivamente limitare il numero di contagi è un grande punto interrogativo perché non è stato fatto mai non è stato testato mai non lo sa nessuno se effettivamente il vantaggio vale la perdita di privacy anche perché c'è un problema queste applicazioni se ho capito bene in Italia funzioneranno così solo se praticamente l'autorità sanitaria ti testa e tu sei positivo ti darà un codice per premere questo famoso tasto che ti permette di informare tutti gli altri ma se il 95% attualmente sono dei positivi che non sono stati testati che senso ha testare il 5% e allora qualcuno dice no ma ora talmente tanto più sarà il testing in Italia che copriremo più persone ma è tutti quelli asintomatici che sono comunque credo il 60 una cosa del genere cioè la maggior parte delle persone è asintomatica faremo test così a tappeto da coprire anche loro non lo so almeno perché non permettere a questa applicazione di segnalarsi come potenzialmente diciamo positivo se io ho una serie di sintomi che sono altamente predittivi ho qualche problema respiratorio non sento più gli odori ho la febbre alta che sono i sintomi classici del covid 19 allora permettimi di segnalarmi lo stesso magari l'utente riceverà una notifica diversa sei stato a contatto con con degli individui che potenzialmente potrebbero avere il virus anche se non c'è stato test anche se non sono stati testati tramite diciamo analisi di laboratorio almeno quest'individuo magari sarà testato e allora la forza dell'applicazione magari potrebbe essere maggiore mi chiedo anche un'altra cosa nei luoghi altamente abitati densamente abitati in cui le case sono così e i forati sono di 10 cm se io sono qui e tu sei qui e noi non siamo mai venuti a contatto ma il bluetooth passa perché il bluetooth riesce a superare degli ostacoli sottili e tu sei positivo io per esempio in questo caso ricevo un falso positivo perché noi in realtà non abbiamo mai respirato la stessa aria non c'è droplet non c'è sputacchio che possa essere andato da un soggetto all'altro e io sarò lo stesso positivo se ci sono molti falsi positivi questa applicazione rischia solo di seminare il panico senza effettivamente risolvere nessun problema per cui diciamo data secondo me è una buona idea provarci anche perché voglio dire essere umani è anche andare in avanscoperta provare quello che nessuno ha provato per cercare di risolvere i problemi però usiamo un protocollo distribuito non invasivo non centralizzato così vediamo cosa riusciamo a fare senza mettere per una cosa che neppure si sa se funzionerà bene il rischio è la privacy dei cittadini spero di non avervi triturato le orecchie un saluto a tutti ciao grazie